Ancora violenza nel mondo del calcio dopo quanto accaduto la scorsa settimana a Mandello Dell'Ario con la riapertura del campo sportivo, ma sotto osservazione, un'altra aggressione e ben più grave, questa volta al termine della partita quando le squadre stavano tornando negli spogliatoi. Un giocatore di 17 anni della Colico Derviese si è avvicinato all'arbitro insultandolo quando si è visto sventolare il cartellino rosso e ha reagito aggredendo l'arbitro, pugni e sberle fino a rompergli il naso. Il direttore di gara di 19 anni è stato medicato al pronto soccorso dell'ospedale Antonio Locatelli di Piario alla prognosi di 15 giorni per una frattura incompleta del setto nasale. È accaduto domenica mattina alla fine della partita del campionato degli allievi regionale Under 17 tra Vertovese e Colico Derviese, giocata allo stadio comunale di Rovetta nella Bergamasca. Il gruppo sportivo Vertovese insieme alla società US Ruvetta si dissocia e condanna il grave episodio e esprimiamo la nostra vicinanza al direttore di gara, augurandogli una pronta guarigione. Il messaggio affidato ai social della squadra di casa. Decisa anche la presa di posizione della Colico Derviese, non possiamo che condannare il comportamento del nostro giocatore, spiega il presidente Ernesto Maglia. Abbiamo parlato con il ragazzo e con la famiglia, lui per primo si dice rammaricato per quanto accaduto. Scriveremo una lettera alla federazione degli arbitri per scusarci e accetteremo qualsiasi decisione sarà presa dal giudice sportivo. Come società stiamo portando avanti un progetto di crescita soprattutto umana dei nostri tesserati, che solo poche settimane fa si sono distinti per un gesto di far play. Infine la nota ufficiale, la Colico Derviese condanna fermamente il gravissimo episodio avente come protagonista un nostro giocatore. Quanto accaduto non corrisponde in alcun modo alla filosofia, all'impegno della società, che da anni si dedica alla promozione dei valori di etica e sportività. Piena e incondizionata solidarietà e totale supporto al giovane arbitro, quanto successo sarà da impulso per aumentare ancora di più l'impegno della società ad attuare processi di sensibilizzazione tra tutti i nostri tesserati per quanto concerne il rispetto dei principi di educazione e far play nei confronti di tutte le componenti del mondo sportivo.